L'intervista al mister è offerta da Health Poliambulatorio è il punto di riferimento a Piacenza per la tua salute Ambulatori di medicina specialistica, osteopatia, fisioterapia, una piscina e una palestra Health e Medical Partner del Piacenza Calcio HealthMedical.it Autorizzazione sanitaria numero 919 Direttore sanitario dottoressa Giuliana Rapaccioli Cosa ripeterà lì? Grazie Andrea per la linea Siamo qua con Stefano Rossini Alla fine della partita con Lentigione 1-1 Un primo tempo in cui sono partiti meglio loro Abbiamo sofferto il solito gol su pall'alta Poi abbiamo preso in mano la situazione Siamo riusciti a pareggiare Sembrava un preludio, un secondo tempo Che invece è stato quasi tutto il Lentigione Cos'è mancato Stefano? Allora c'è da capire se è un discorso Secondo me non più un discorso mentale Perché dobbiamo renderci conto che Piacenza è una piazza esigente Come è normale che sia E noi se non fai bene È giusto anche che ci fischino E che esprimano la loro non contentezza Noi però dobbiamo andare oltre questo Perché secondo me è mancato anche il coraggio Non vedevo gente previsposta a voler la palla Come è stato poi da metà primo tempo A fine primo tempo Perché lì avevamo preso in mano la situazione Infatti per me nella mia testa Avevo pensato Ce l'abbiamo in mano in questo momento la partita Poi dopo il secondo tempo invece Non è stato così Dobbiamo far tesoro di questa cosa qui Perché ripeto Per giocare in certe piazze ci vuole personalità Quando le cose Quando non fai bene È giusto che ti fischino È giusto che esprimano la loro non contentezza Come ho detto prima Ma noi dobbiamo andare oltre questo Dove dobbiamo essere Anzi questa cosa ci deve dare quel quid in più Per volere far in quel momento qualcosa in più Ecco avere più coraggio Avere più personalità Anche perché venivamo in una situazione ideale Una vittoria nel derby fuori casa Si era creato tanto entusiasmo Per cui questa preoccupazione Che giustamente stai sottolineando tu Non dovrebbe avere senso in questo momento Allora Fermo restando che poi dopo Ci sono gli avversari che sono stati bravi Ecco Nel secondo tempo sono stati bravi Però quello che mi fa pensare È che avevamo Dopo un quarto d'ora Del primo tempo così Avevamo anche Ti ho detto Preso le redi nel gioco Facevamo Abbiamo cominciato a fare le nostre cose Sapevamo che era una partita verticale L'avevamo preparata così E tante volte Gli abbiamo messi anche in difficoltà Nel primo tempo Poi Nel secondo Tutto questo Non l'abbiamo fatto Dobbiamo capire La motivazione Se è questa che ho detto Dobbiamo Dobbiamo andare oltre Perché Ripeto Dobbiamo essere forti Dobbiamo avere personalità Comunque Tu dicevi Venivamo da un periodo Ma quello In una partita Se ne giocano tante di partita Io lo dico sempre E quindi Dopo si azzera un po' Tutto quello che è stato Prima Noi Non dobbiamo pensare a quello Dobbiamo pensare al momento Se in quel momento Non stiamo bene È giusto Diciamo così Rischiare meno Magari abbassarsi Come abbiamo fatto Però Dobbiamo avere più personalità Quando poi abbiamo la palla E la recuperiamo Perché lì Siamo mancati Secondo me In quello lì È sembrato nel secondo tempo E potrebbe essere figlio di questa cosa Anche Un po' di intensità E un po' di cattiveria Cioè Sulle seconde palle Le avevano loro Sulle rimpalle La prendevano loro Sì Bravo Ma Noi dobbiamo capire Se è questo che ho detto Perché questo qua Ti condiziona anche In quello O se è un discorso fisico Nel senso che Ti dico Però Questo Non penso Adesso Analizzeremo Rivedrò la partita Perché Comunque sia Quando tu Non hai sicurezza Quando tu Diciamo così Non hai La voglia Di Di prendere a tutti i costi La palla Di volerla a tutti i costi Dopo Anche il contrasto La mezza palla Così Non Non ti va mai Non riesci mai Non va mai a te Quindi ecco Noi dobbiamo aumentarla Questa cosa qui Ma tanto Tanto Venendo allo specifico Nell'occasione del prego gol Oltre al fatto che Non l'abbiamo presa di testa Abbiamo lasciato rimbalzare Una palla in area Ecco lì Quello è un segnale Di un po' di preoccupazione Di mancanza forse Di attenzione Su quella palla Che si poteva leggere meglio Sì Quello è stato un errore Che abbiamo fatto Perché È stato proprio Un errore di concentrazione Perché come hai detto Tanto te la palla Anche quando Non deve rimbalzare Ma nel momento in cui rimbalza Siamo stati Molto poco Reattivi Ecco Quello È un'altra cosa Dove dobbiamo migliorare Ma la cosa Che io Spingo tanto È quella che Ho detto prima Dobbiamo Dobbiamo renderci conto Che Che dobbiamo avere Più persone Molta più personalità Prenderci Più responsabilità Nella giocata Anche Perché Secondo me È mancato tanto questo Secondo te Come può Un allenatore Se una squadra Potrebbe essere Questa la problematica Cercare di Dargli più fiducia Ancora Cercare di dargli Più forza Perché se uno C'ha la personalità C'è l'asse È difficile Riuscire a inculcargliela No Dobbiamo lavorare tanto Dobbiamo Dobbiamo aumentare L'autostima Dobbiamo aumentare La consapevolezza Nei nostri mezzi E quindi Lavorare anche Da un punto di vista Psicologico Sui ragazzi Io Sono abituato A dire quello che penso Lo dico a voi Lo dico anche a loro Io Ripeto Questa partita Io sono contento Che sia Che sia andata così Perché Che Che il risultato Sia stato questo Perché Ti dico Anche questo è un segnale Quando Quando Fai Questo tipo Di secondo tempo Devi essere aperti Anche a contentare Perché poi Dopo La realtà E anche questo Mi spiace Solo perché Dal Ripeto Da metà del secondo tempo Avevo Pensato Che fosse Che fosse Che fosse Un'altra partita Diversa Da come poi È stata Perché poi Ripeto L'avevamo Avevamo Presa in mano Bene Eravamo Eravamo Anche In fiducia Eravamo Provavamo Avevamo alzato Molto il baricentro Riuscivamo a falleggiare Riuscivamo a uscire E quindi Dobbiamo analizzare Il perché Poi nel secondo tempo Non Non è stata così Un'ultima battuta Hai fatto scaldare subito Doria Io ho pensato Uno di due esterni Invece era Corradi Che non stava forse bene Sì Corradi ha avuto Un problema In dubito E quindi Abbiamo appunto Fatto scaldare Preventivamente Un paio di giocatori Perché dopo Anche Si era Si era scaldato Anche Manicone Perché dopo Dopo lo svantaggio Quindi Dovevamo capire Come stava Il ragazzo Grazie Stefano Alline che torno allo studio Grazie a tutti Voi Grazie! Grazie a tutti